Ringrazio il Festival Viareggio Europa Cinema che mi ha dato questo riconoscimento, poi ci sono i giovani in questo premio, c'è l'università, insomma è una cosa grandiosa e siccome fino a poco fa, adesso ho smesso, ma ero un insegnante e lo sono ancora secondo i russi, vi dico alcune cose perché mi piace rivolgermi ai giovani, sono venuti qua almeno 10-12 fra i più registi che stanno maturando e nel teatro di Penabilli ho fatto una lezione dicendo questo, di principale, guardate che altro è guardare e altro è vedere e per spiegare questa piccola cosa che in fin di conto è la base del cinema, ho detto che con una signora qui vicino a Penabilli ero in macchina quando ho fatto fermare e mi sono avvicinato a una panca di ferro che stava diventando verde e che su questa panca si posavano i vecchi di una trattoria chiusa e c'era un vecchio giardino e io ho capito che questa panca era triste perché non lavorava e quindi era diventata verde e non c'era più nessuno che si fermava a sedere per vedere una macchina, mi sono seduto su questa panca per farla lavorare, dice vedi che sono con te e lavori, guardo le macchine che passano, questa ho spiegato la differenza tra guardare e vedere che è anche nel cinema, ora seguo poco il cinema però qualche immagine ogni tanto mi arriva addosso, vedo che ci sono in Italia dei giovani molto preparati e ci sono delle cose importanti, anche se spesso la realtà che vogliono trasmettere e regalare non è più quella che ci davano i registi come Arosi, come Angelopoulos, come i grandi registi che non abbiamo alle spalle ma sono quelli più anziani per questo lavoro, la loro era una realtà che fioriva di fantasia, non era una realtà che era colpita dalla fantasia del regista, questi emigranti nel film di Crealese che si buttano giù nell'acqua danno già spettacolo e invece io voglio sentire sempre che sia una realtà sofferente, non voglio un divertimento, non voglio un abuso di stile, cioè lo stile è una cosa che deve nascere naturalmente dalla realtà come hanno sempre fatto i registi con i quali ho lavorato. Mi chiedo sempre ma perché? Pensate abbiamo ancora noi dei grandi registi, i registi, Olmi, i Taviani, i Rosi, Bertolucci, Bellocchio, Moretti, perché lo Stato non capisce che per dare un momento di grande apertura sull'Italia non facciamo fare tutti assieme un anno del cinema italiano, perché vicino ai giovani non mettiamo anche questo gruppo potente di registi, potente e dobbiamo non dimenticare che nel dopoguerra se il mondo ha guardato con simpatia l'Italia è stata per il cinema, si sono tolti il cappello, ci hanno salutati e siccome siamo in un momento che non godiamo un'attenzione dolce del mondo, sarebbe bello squillare una cosa forte, un grido, un grido d'arte, darlo tutti assieme, quelli sono i soldi spesi bene per il governo italiano. Mi dispiace di non poter venire a Viareggio, anche se sembra che faccia il giovanile e invece ho dei problemi abbastanza pesanti e anche se il dolore è per non ringraziare sia il direttore dei Santi della Mostra e tutti quelli che hanno voluto darmi questo riconoscimento, mi dispiace di non abbracciare Angelopoulos che mi dico lo sarà là e che è uno dei registi più luminosi del mondo, quindi guardatelo con attenzione, guardate quello che vi dice o quello che vi mostra perché è veramente quello un grande insegnamento. Vi ringrazio ancora di tutto, scusate se io per ragioni non semplici, ma insomma sono lontano, sono lontano che non posso abbracciare Tiangelopoulos e non posso dire a tutto il pubblico grazie e a chi mi ha premiato, grazie per questo riconoscimento che volete aggiungere a quelli che ogni tanto mi arrivano, forse perché pensano che insomma sono alla fine di molte cose, però vi dico anche questo, non è vero che noi eravamo i più bravi, siamo i più bravi, verranno dopo di noi quelli che saranno più bravi di noi, quindi ragazzi, tutto su di voi dipende, io mi baso su di voi, siate bravi perché le capacità ci sono e basta, vi saluto.